Nicolaus Grande attesa a Bari nella Basilica per il sorteggio della barca fortunata, estratta da innocenti mani di bambino sotto gli occhi di centinaia di baresi. Delusione dei tanti, felicità di pochi, tra cui Sabino Amoruso che con la sua gina porterà in mare il quadro con l'icona del santo. Gli altri restano a mani vuote, ma con la speranza di riprovarci l'anno prossimo. 924 anni di storia che si ripetono ogni anno con la stessa magia e con la stessa partecipazione popolare. Non è solo fede, ma qualcosa di più. Un rito che aspetta di compiersi tra pochi giorni, identico nei secoli ma immutato nei cuori della gente.